Ciao. Buongiorno a te. Com'è stata la serata? Orribile. La tua? Anche. Elena, dobbiamo parlare. Lo so che sono asservita a te, Damon. Caroline me l'ha detto. È dell'asservimento che vi stavate occupando tu e Stefan. C'è un modo per liberarsene? Sembra di no. Ecco perché dobbiamo parlare. Tyler dice che il vincolo non influisce su quello che provi, ma sul modo di agire. I miei sentimenti per te non sono cambiati, niente è cambiato. Invece è cambiato tutto, Elena. D'accordo, va bene, sì, forse io sono cambiata. E lo sai anche tu, Damon. Ma io sono felice. Proprio come lo eri tu ieri mattina, prima di sapere tutto questo. Sai cosa mi renderebbe felice? Avere la certezza che per tutto il tempo in cui sono stato follemente innamorato, quello che provavi per me era reale. È reale. Io so che è così, Damon. Ho capito le tue intenzioni. Ti prego, non puoi farmi questo. Io non lo voglio fare, Elena. Io non sono il bravo ragazzo, ricordi. Io sono l'egoista. Prendo quello che voglio e faccio quello che voglio. Mento a mio fratello, mi innamoro della sua ragazza, non faccio mai la cosa giusta. Ma questa volta non posso che fare la cosa giusta per te. Questo non ti sembra vero? Questo non ti sembra vero? Il beato io. have ozono crap è ot slim, fordici piESSi e che sonoимся. Sf wollen dire che se scegliere molto ieri. Ho hallato un po'